È stato il primo e forse sarà anche il più grosso colpo dell'estate di calcio mercato italiana. Antonio Conte, nuovo allenatore dell'Inter. Una scelta nettissima, una scelta forte, perché se Antonio Conte decide di tornare in Italia è perché è convinto all'Inter di poter vincere, di poterla riportare ai vertici del calcio nazionale e non solo. Una scelta sicuramente anche rischiosa. Qualcuno addirittura ha detto mai osare sfidare la storia ed è vero, la storia va rispettata e per un uomo profondamente simbolo della Juventus, prima da calciatore e poi da allenatore, fare un tale salto della barricata è sicuramente qualcosa di forte, di significativo, di importante, di profondo, però la storia va anche conosciuta e allora pensiamo ad esempio ad una figura come quella di Giovanni Trapattoni che con la Juventus aveva vinto tutto da allenatore e poi si è permesso addirittura di costruire l'Inter dei record di fine anni 80, inizio anni 90. Quel che è certo è che se Antonio Conte sposa un progetto è perché uno ne è convinto e due ha la garanzia di poter portare i propri uomini, i propri metodi e le proprie idee. Antonio Conte è un comandante, Conte sicuramente è un accentratore, metterà la propria figura al servizio del club a patto però, che si seguono appunto i propri dettami. Probabilmente ha anche fornito una lista di preferenze a livello di giocatori, adesso vedremo come sarà l'interazione con le idee, le linee economiche e finanziarie del club per costruire la nuova Inter. Qualche idea però possiamo già avercela, a partire dal fatto che ci sarà un grande distacco rispetto al recente passato, rispetto alla gestione Spalletti, soprattutto per quanto riguarda il sistema di gioco, perché Antonio Conte ha in mente il 3-5-2 come punto di partenza, quindi una difesa a tre, cosa fatta molto raramente da Spalletti, e un attacco con due punte vere, due punte sempre in campo, cosa che invece l'ex tecnico dell'Inter nell'ultima stagione non ha praticamente mai fatto, confinando Icardi e Lautaro Martino, è stata una sorta di continua staffetta e non puntando mai, o quasi mai comunque su basi continuate, sui loro due insieme. 3-5-2, proviamo ad analizzare l'Inter che può nascere sotto le gita di Conte, reparto per reparto, e direi che il reparto centrale della difesa è quello già fatto, già formato. È arrivato Godin, quindi Godin, De Frey e Skriniar compongono una base solidissima su cui costruire, così com'è solidissimo il portiere Andanovic, che continuerà a lavorare con il proprio preparatore, Bonaiuti, perché nello staff di Antonio Conte, già delineato, non c'è Spinelli, il preparatore dei portieri con cui aveva lavorato al Chelsea, ma proprio l'ottimo sodalizio fra Andanovic e Bonaiuti, Andanovic che è stato decisivo nella scorsa stagione, prendiamo anche solo l'ultima partita con l'Empoli, consiglia a continuità. Parlando di staff, ci sono volti che ritornano, come quello di Stellini, che dopo l'esperienza alla guida della Primavera del Genoa e dell'Alessandria torna ad essere l'assistente di Antonio Conte assieme a Vanoli, uno che ha fatto molto bene con Conte al Chelsea, ma ha fatto molto bene anche come capo allenatore, soprattutto a livello federale, ce la ricordiamo, la sua Under-19 che nel 2016 all'Europeo, con Barella in campo, arrivò fino alla finale, salvo essere travolta dalla Francia. Se parliamo però dello staff di Antonio Conte, dobbiamo pensare che all'interno dei suoi uomini, c'è un vero e proprio supercolpo di mercato e riguarda il preparatore atletico, perché con Conte torna in Italia Antonio Pintus, il preparatore di Zidane al Real Madrid, l'uomo che ha permesso ai Merengues di volare nei finali di stagione andando a conquistare tre volte consecutivamente la Champions League, l'uomo che in qualche modo, interagendo nella maniera migliore possibile, ha anche permesso a Cristiano Ronaldo di allungarsi la carriera, di continuare ad essere quel vorace, inarrestabile predatore, nonostante l'avanzare dell'età. Torniamo però alla costruzione della squadra, vi ho detto, la parte centrale della difesa è praticamente già fatta ed ha delle garanzie, direi, molto interessanti. C'è più lavoro da fare invece per quanto riguarda i laterali, perché già i terzini erano un punto critico dell'Inter precedente, figuriamoci con il cambio di sistema di gioco e dunque con la necessità non solo di avere dei difensori bassi, ma dei laterali a tutta fascia. La mia impressione è che a sinistra ci sia da lavorare meno, perché comunque Asamoah verrà confermato e perché Conte ha in mente di utilizzare Perisic come laterale a tutta fascia. Perisic io credo possa rimanere all'Inter e rimarrà con i gradi di titolare come esterno sinistro. Poi si sta parlando di Kolarov in questi giorni, possono esserci delle suggestioni, possono esserci delle occasioni. Kolarov è stato il miglior terzino sinistro dell'ultimo campionato italiano, rimando a segnare persino otto gol. Però la mia sensazione, la mia idea è che manovre di mercato con conseguenti investimenti ci saranno soprattutto sull'altra corsia, che è praticamente scoperta. C'è uno come D'Ambrosio, che però come laterale a tutta fascia può avere qualche problema. Oltretutto un jolly come D'Ambrosio poi finisce per trovare spazio in qualsiasi settore. Di conseguenza bisogna prendere un titolare a destra. E il profilo del titolare può essere effettivamente quello di Lazzaro, il tedesco che potrebbe arrivare in Italia. Un altro profilo che piace è quello di Attal. Potremmo anche trovarci di fronte, non dico su basi stabili, ma per certi momenti e certe situazioni anche a qualche esperimento geniale, a qualche sana follia da parte di Conte, che lo ricorderete al Chelsea riuscì a ressuscitare Moses cambiandogli ruolo e facendolo passare da un'ala un po' spenta a un laterale a tutta fascia, in grado di dare un surplus di qualità senza rinunciare all'equilibrio. Se io penso a un giocatore del genere che potrebbe avere un'evoluzione così nella rosa dell'Inter, non perché sia spento, ma per le sue caratteristiche, io vedo Politano, ma ripeto, l'idea di partenza è quella di considerare Politano nel novero degli attaccanti, però non stupiamoci più di tanto se poi durante la stagione Antonio Conte dovesse presentarci Politano lì e se dovesse farlo bene sarebbe veramente un grandissimo capolavoro da parte del tecnico pugliese. Avanziamo a centrocampo, qua i ragionamenti da fare sono profondi. L'unico punto fermo, l'unico punto di continuità è indubbiamente Marcello Brozovic, che è stato anche il lavoro individuale più riuscito a Luciano Spalletti. Conte ha idea di giocare con un centrocampo a tre, quindi vertice basso e due mezze ali. Brozovic si collocherebbe davanti alla difesa, non è il suo ruolo naturale, è un ruolo che può interpretare bene, è un ruolo in cui Conte ha intenzione di dargli fiducia. Si potrebbe forse ragionare su un'alternativa, low cost, una mezza scommessa, un giocatore mestierante, però Brozovic nello schema ideale dell'Inter parte lì. Bisogna invece lavorare molto per arrivare a capire quali possano essere le due mezze ali, perché Conte è stato molto chiaro, vuole una mezzala di intensità e vuole una mezzala rapida e ultra tecnica, possibilmente qualcosa di molto simile a un top player. E qua bisogna lavorare ancora di mercato. Per quanto riguarda il settore, il nome più caldo, più importante, più imponente, più forte sul mercato in questo momento è senza dubbio quello di Barella, anche perché l'Inter si è in qualche modo impegnata a prendere il giocatore dal Cagliari. La cifra è veramente monstra, si parla di un'operazione da 50 milioni, una cifra forse anche iperbolica per un giocatore che anche in nazionale sta dimostrando di avere ottime qualità, di avere buonissime prospettive, però 50 milioni sono tanti e allora c'è anche il rischio magari di dover inserire qualche contropartita tecnica per arrivare a bilanciare l'operazione. Una contropartita tecnica gradita al Cagliari sarebbe Bastoni, difensore centrale molto promettente, Mancino, nazionale giovanile, redoce da una buona stagione di consolidamento e di crescita. A Parma, a mio modo di vedere, l'Inter rischierebbe un po' nel privarsi di un giocatore del genere, evidentemente Zaniolo non Dochet, però vediamo come può chiudersi questa operazione che allo stato attuale delle cose sembra molto molto probabile. Barella dal punto di vista delle caratteristiche andrebbe bene in quel ruolo che pensa Conte, punto di domanda invece per quanto riguarda l'altra mezzala. Ripeto, l'idea del nuovo tecnico è di poter arrivare, di sperare di arrivare ad un giocatore di massima levatura, di massima caratura. Uno alla Eriksen, per darci l'idea. Non credo che Eriksen possa essere un colpo di mercato credibile per l'Inter. In passato si era parlato di Rakitic, in passato si era parlato di Modric, tutti i nomi che al momento sono un po' fuori portata, però l'obiettivo è un giocatore di questo profilo, perché Antonio Conte vuole una sorta di ibrido fra il fantasista e la mezzala, è comunque un giocatore che dia cambio di passo ad un reparto che ha tante figure, con un passo un po' uguale per tutti e che soprattutto sappia far viaggiare il pallone e i compagni. Quindi in questo potrebbe concentrarsi il più grande investimento dell'estate dell'Inter. E in quel ruolo ci sarebbe anche una delle figure in questo momento un po' discusse, un po' sospese, la figura di Raja Nainggolan. Come andranno Nainggolan e Conte? Andranno avanti insieme? Ci saranno decisioni di mercato? Si parla? Si scrive? Sicuramente Nainggolan è un giocatore che può integrarsi bene nel calcio di Conte, deve però integrarsi altrettanto bene o forse integrarsi ancora meglio nel sistema di Antonio Conte. Di conseguenza il belga deve pensare di abbassare un filo la cresta, e non sto parlando di cose estetiche per potersi mettere al servizio del nuovo allenatore. Dovesse farlo, dovesse avere le giuste attitudini, allora Conte potrebbe trovarsi in casa un giocatore molto molto importante. Vedremo però cosa succederà e se parliamo di casi piccanti arriviamo all'attacco e non possiamo che puntare il mirino su Icardi. Icardi l'ex capitano, Icardi la figura per la quale si sta dicendo, scrivendo, profetizzando qualsiasi cosa, con il rischio anche di prendere delle strade sbagliate. Si è detto addirittura che Conte avrebbe chiuso la porta Icardi. Io non credo che sia così, badate bene, non vi sto parlando di notizie di mercato, non vi sto dando news su delle operazioni, perché non è la parte principale del mio mestiere, ma anche perché in questo momento, ripeto, si dicono tante cose e si rischia di scivolare. Vi sto parlando di sensazioni. Io non credo che sia stato Conte a chiudere la porta Icardi, se effettivamente una porta è stata chiusa di fronte al numero 9 argentino. Credo che magari la società abbia qualche motivo in più per fare i muscoli, per gonfiare il petto di fronte Icardi e ce lo dimostra la storia degli ultimi mesi, ma credo che anche lo stesso Icardi una porzione di porta se la sia chiusa davanti. Prendete anche solo l'ultima partita, quella decisiva con l'Empoli, quella che ha portato l'Inter in Champions League con un finale di totale sofferenza. Icardi ha sbagliato il rigore della tranquillità e poi è uscito nel momento in cui infuriava la battaglia. C'è anche una situazione ambientale che in questo momento porta la piazza a pensare che l'Inter nuova, l'Inter di Conte, possa prescindere dai Cardi. Ora però bisogna anche capire come si muoverà il mercato e questa è una materia che vivremo giorno per giorno. Di sicuro, come detto, l'idea di Conte è quella di giocare con due punte. Di conseguenza, se dovesse essere ceduto Icardi, sicuramente entrerà qualcun altro, ma direi entrerà qualcun altro a prescindere. E anche in questo caso le direttive, le volontà di Conte sono molto chiare. Vuole un numero 9 di peso, un giocatore di stazza, un giocatore che sappia lavorare spalle alla porta, ma che sappia anche associarsi con i compagni e che in area di rigore faccia gol. Non è un mistero che Conte abbia una predilezione forte per Lukaku, giocatore che già voleva per il suo Chelsea, un giocatore che gli piace per come interpreta il ruolo di numero 9, un giocatore che ha anche un costo molto elevato e in questo momento, molto vicino all'Inter, sembra Edin Dzeko. Si ragiona su cifre più basse, Edin Dzeko è un giocatore di massimo valore in questo senso, perché rispecchia le caratteristiche del numero 9 di Conte arriverebbe anche con la fame di chi si ritroverebbe di fronte ad un'ultima grandissima chance nella sua carriera. Bisogna capire se Edin Dzeko è un giocatore ben integrabile, con l'unico elemento di continuità nell'attacco dell'Inter, sempre presupponendo una fine negativa nel rapporto con i Cardi, il che è una presunzione e non una certezza. Comunque l'elemento di continuità sicuro sarà Lautaro Martinez, Lautaro che nel suo primo anno italiano ha dimostrato di avere il talento e i mezzi per poter diventare un giocatore da Inter, che nei suoi anni di imposizione al Racing Gavecianeda ha fatto vedere una cosa che, come vi dicevo, Spalletti non gli ha mai riconosciuto fino in fondo, ovvero sapersi integrare molto bene con un'altra prima punta. Lautaro Martinez che quest'estate in Coppa America, dove andrà proprio al posto di Cardi, potrà darci ulteriori dimostrazioni sul suo livello di maturità, ma Conte ha osservato il toro Lautaro Martinez, ha dato il suo assenso e l'idea è quella di lavorare sul giovane attaccante argentino. Poi ci sono altre figure, come quella di Politano, che come detto inizialmente parte nel novero delle punte e allora con un centravanti vero, con un centravanti di stazza potrebbe intervenire anche la figura di una mezza punta, in questo caso Politano, la suggestione di uno scambio fra i Cardi e Di Bala. Dal punto di vista tecnico, non so se poi sul piano strettamente del mercato e dell'operazione finanziaria possa andare a buon fine, ma dal punto di vista puramente, squisitamente tecnico, andrebbe ad integrarsi bene in questa idea di squadra. Lo stesso Perisic, che ripeto, nella mia concezione, nella mia sensazione, parte come laterale, sinistro, titolare, potrebbe all'occorrenza anche diventare secondo attaccante, potrebbe alzarsi una ingollanna e ci sono tante situazioni esplorabili. Lo stesso che Itabaldei, l'uomo che ha segnato un gol fondamentale contro l'Empoli, che l'Inter non riscatterà, ma che il Monaco non vuole trattenere, potrebbe ritrovarci di nuovo a Milano, ancora con una soluzione temporanea. Insomma, tante cose sono in evoluzione in questa Inter, anche perché le racconte è appena cominciata. Oggi, forse, è il primo vero giorno con la prima vera riunione tecnica con lo staff per programmare. Certe cose sono già definite, certe cose sono tutte da delineare. Palla anche alla società, ma sappiamo di per certo che se Antonio Conte è tornato, e se lo ha fatto a maggior ragione per guidare l'Inter, allora la sua idea è quella di essere tornato in Italia per vincere.